Augusto De Santis, i dati del 2013 di Terna dicono che il 60% dell'energia abruzzese è derivato da energia rinnovabile. Questo cosa significa? Vuol dire che l'Abruzzo sta facendo molto bene per quanto riguarda le rinnovabili, almeno nel campo dell'elettrico. Poi bisogna parlare pure dei trasporti e lì invece siamo molto indietro. Questo vuol dire che l'Abruzzo sia avviato su un percorso giusto per quanto riguarda i consumi elettrici che sono derivanti soprattutto da rinnovabili. Noi abbiamo peraltro un deficit energetico, però importiamo anche energia rinnovabile dalle altre regioni. Abbiamo un deficit causato dal fatto che, sembrerà un paradosso, ma molte centrali, quelle turbogas, quindi impianti fossili costruiti a metà degli anni 2000, praticamente non funzionano, cioè esistono ma sono lasciate spente perché non conviene produrre energia con fonti fossili perché abbiamo molte rinnovabili. E qui fa capire che ci siamo istradati su un percorso e noi diciamo altro che ombrina. Cioè la realtà delle rinnovabili è già oggi con noi e non è più un futuro. Il 60% dell'energia consumata dagli abruzzesi, l'energia elettrica, appunto, proviene da rinnovabili. Quindi noi adesso dobbiamo dire no a Ombrina, quindi invitiamo tutti i cittadini, le associazioni, gli enti locali a scrivere al Ministero dell'Ambiente entro il 29 luglio per opporsi al progetto di Ombrina e alla petrolizzazione, alla deriva petrolifera per la nostra regione perché noi abbiamo scommesso sulle rinnovabili, scommettiamo sul nostro turismo, sul nostro territorio e non su un'energia che è del passato. È una fonte fossile.